Per gli inquirenti l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, anche se non si esclude al momento alcuna pista. Cosa c'è davvero di era la morte del noto commercialista barcellonese Giuseppe Marzullo? Il suo cadavere è stato rinvenuto carbonizzato all'interno della propria autovettura, una BMW, parcheggiata in un angolo in via a case a Lesci, incontrata a Pozzoperla, tra la città del Longano e Milazzo. Il professionista, 72 anni, era molto conosciuto e stimato nella zona, impegnato in politica, aveva ricoperto anche l'incarico di revisore dei conti nella Tirreno Ambiente, la società che gestisce la discarica di Mazzara Sant'Andrea, impianto finito sotto sequestro nel novembre 2014, su disposizione della Procura di Barcellona. Una società alla Tirreno Ambiente al centro anche di inchieste giudiziarie. Il corpo di Marzullo, al momento del ritrovamento, era completamente carbonizzato, dentro la macchina, con gli sportelli chiusi, la cintura allacciata, all'esterno dell'auto una tannica di benzina. Per i familiari l'uomo non aveva dato alcun segno che potesse far pensare alla volontà di compiere un gesto estremo, né si erano presentate difficoltà di alcun tipo tali da indurre al suicidio. Ora si indaga a 360 gradi sugli ultimi istanti della vita del commercialista, con la speranza di svelare dettagli di quello che agli occhi di molti appare come un vero e proprio giallo. Il procuratore Emanuele Crescenti e il sostituto Alessandro Liprino hanno conferito l'incarico al medico legale per l'autopsia che potrebbe servire a fugare ogni dubbio.